Ci sono queste donne straordinarie, afghane, queste che lottano in maniera cieca, queste che si immolano stesse, ne sentiamo parlare ultimamente, queste che sfidano l'uomo e sfidano per delle cause importanti e quindi ecco, ci sono di Giovanni, secondo me non nel nostro paese, ecco la verità. È la forza dei personaggi che sanno resistere a conquistare Elisabetta Pozzi che questa sera riceverà il premio Pulcheri alla Sala dei Teatini dove porterà in scena la sua Giovanna d'Arco. La conferenza spettacolo con ingresso gratuito avrà inizio alle 21, nella chiacchierata con l'attrice durante le prove abbiamo parlato anche del teatro, palcoscenico che ha sempre preferito al cinema. Lo spettacolo è in diretta quindi chiaramente il pubblico ha la possibilità di godere di quello che sta accadendo, non ci sono mediazioni, non c'è registrazione, c'è soltanto un accadimento a cui il pubblico assiste, quindi è un atto privato diventa, fatto apposta per, quindi chi viene si sente chiaramente un privilegiato. Il pubblico è molto attento in questo periodo a degli eventi, molto più a volte che non ad altro, purtroppo soltanto il pubblico lo sa.